Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In apertura del telegiornale ci colleghiamo in diretta con Marco Pasquariello che sta seguendo per noi la conferenza stampa di fine anno del sindaco di Udine Pietro Fontanini e della sua giunta. Telenina, buongiorno Marco. Buongiorno Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, la conferenza stampa di fine anno della giunta Fontanini è ancora in corso. In questo momento alle mie spalle sta parlando l'assessore della cultura Fabrizio Cigolot, conferenza stampa che è stata aperta dal primo cittadino di Udine Pietro Fontanini all'ultima conferenza stampa di fine anno della sua giunta. Poi l'abbiamo saputo si ricandiderà nelle elezioni che saranno ad aprile o a maggio, ancora la data non è certa. Comunque il sindaco ha voluto parlare di un importante risultato raggiunto in questi cinque anni, ovvero il dimezzamento del debito del Comune di Udine. È stato ereditato un debito di 82 milioni di euro, ora il debito del Comune di Udine è di 46 milioni, quindi praticamente dimezzato. Il sindaco Fontanini ha raccontato tutta una serie di risultati raggiunti in quest'anno, in primis la conclusione della demolizione dell'ex dormish che dovrebbe finire in questi giorni, prevedere poi la costruzione della scuola dell'ITS Malignani e di spazi aperti alla cittadinanza. Ha voluto raccontare anche l'impegno del Comune di Udine nei confronti dei profughi ucraini, vista la guerra iniziata a febbraio, l'accoglienza della città di Udine in diverse residenze protette in città e un'attivazione di una serie di corsi di lingua per i profughi che sono arrivati nel nostro paese. Poi ha raccontato dell'acquisto dell'Odine, un'opera importante per la città di Udine, un'opera praticamente in stato di abbandono da diversi anni, che ora il Comune trasformerà in un luogo aperto alla cittadinanza, un luogo di cultura che in particolare per il momento ospiterà le mostre dedicate ai fratelli Basaldella. Poi ha ricordato le opere di Viale Venezia, le rotatorie che sono in realtà ancora in corso i cantieri per costruire queste rotatorie, sono state attivate solamente un paio di rotatori, tolti i semafori con l'abbattimento di diversi alberi, ricordiamo anche le polemiche per queste opere. Quindi grande soddisfazione da parte del Sindaco del Comune di Udine per la chiusura di quest'anno, che ha lanciato chiaramente un auspicio anche per quello che sarà il 2023, i primi mesi quantomeno di amministrazione Fontanini, e poi vedremo cosa diranno le urne, cosa diranno i cittadini. Per il momento è tutto, ci rivediamo in a voi la linea con le voci dei protagonisti, linea allo studio. Grazie, grazie a Marco Pasquarello per questo aggiornamento in diretta. Siamo alla cronaca, un anziano è rimasto ferito in modo non grave, in seguito a un'esplosione verificatasi nella sua abitazione, innescata da una fuga di gas accidentale da una bombola. L'incidente è accaduto all'alba di stamani a Porpetto. Diffuso l'allarme, i soccorsi sanitari della Sores hanno inviato subito sul posto un'ambulanza e hanno allertato i vigili fuoco e i carabinieri della compagnia di Palmanova. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Palmanova, dove i sanitari gli hanno diagnosticato lesioni non gravi. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 17 arresti sono stati eseguiti nelle ultime settimane dalla Polizia di Stato di Udine. Si tratta di persone condannate per diversi reati. Sette persone arrestate e dieci provvedimenti di detenzione domiciliari eseguiti per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla violenza sessuale, passando per il riciclaggio. Nelle ultime settimane il personale della Polizia di Stato di Udine ha dato corso a diverse misure coercitive nei confronti di persone domiciliate in provincia. Un 35enne colombiano è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento della Procura di Udine. Deve scontare sei anni e quattro mesi di reclusione per spaccio di droga. È stato portato in carcere anche un 23enne albanese condannato a cinque anni per la detenzione di un grosso quantitativo di cocaina. L'episodio avvenuto a San Donato milanese, il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Lodi. La Procura Generale di Trieste ha invece disposto l'arresto di un 66enne albanese il quale deve scontare cinque anni e cinque mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti. Gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato e incarcerato a Udine anche un 32enne italiano condannato a tre anni e quattro mesi per violenza sessuale. Il provvedimento è della Procura Generale di Trieste. Condannato a quattro anni per riciclaggio, come disposto dalla Procura di Genova, un 41enne marocchino è stato rintracciato in un comune della fascia confinaria di Udine. Faceva parte di un sodalizio che trasferiva nell'area magrebina veicoli rubati in Italia. Localizzato dalla Polizia, anche un 31enne campano deve scontare quattro anni e quattro mesi, come predisposto dalla Procura Generale di Trieste, per diversi episodi di rapina. Su disposizione della Procura di Udine è stato rintracciato ed arrestato un 24enne pakistano che vive a Torino. Deve scontare tre anni e sette mesi per reati inerenti gli stupefacenti. Gli agenti della Questura di Udine hanno infine eseguito dieci provvedimenti di esecuzione pena ai domiciliari. Uno in particolare riguarda un 58enne che vive in città, condannato a un anno e nove mesi per reati in materia di droga. I dati su ricavi ed occupazione sono positivi, ma il contesto internazionale e i rincari che interessano energie e materie prime continuano a preoccupare. Il quadro tracciato da Conf Cooperative Alpe Adria sullo stato del comparto. Crescono ricavi e occupazione nel mondo cooperativo dopo la pandemia, ma sale anche la preoccupazione per i contraccolpi legati a costi energetici e congiuntura economica. Conf Cooperative Alpe Adria, che riunisce 394 cooperative delle province di Udine, Gorizia e Trieste, diffonde i dati sull'andamento del comparto elaborati dal proprio ufficio studi. La cooperazione, afferma la presidente Paola Benini, ha realizzato una crescita importante con l'occupazione aumentata dell'11,7% rispetto al dato pre-pandemia del 2019 e ricavi in crescita del 14,3%. Numeri che tuttavia nascondono una situazione estremamente differenziata, che vede soffrire in particolare le cooperative di più piccola dimensione, mentre tutto il mondo cooperativo ancora fatica a recuperare margini di redditività che permettano di guardare al futuro con maggiore tranquillità. I lavoratori delle imprese aderenti a Conf Cooperative Alpe Adria hanno comunque raggiunto le 12.742 unità, con i ricavi a oltre 564 milioni. Crescono cooperative sociali e quelle di lavoro e servizi. L'incremento dei costi energetici e di approvvigionamento di materie prime impatta in particolare sul comparto agricolo e su quello del consumo. Permangono le preoccupazioni per il possibile andamento dei costi operativi e degli investimenti nel primo semestre 2023, sottolinea il direttore generale di Conf Cooperative Alpe Adria Paolo Tonassi, soprattutto se dovesse perdurare il quadro internazionale particolarmente critico. Per i prossimi mesi, Conf Cooperative Alpe Adria punta ad una campagna per sostenere start-up di nuove imprese e workers buy-out, cioè le trasformazioni in cooperativa di imprese in crisi o in fase di passaggio generazionale. Siamo alla pagina sportiva con il calcio. In Serie A il mercato si prende la scena. I giocatori dell'Udinese fanno gola a molti club anche di media fascia. Adesso si è aperta l'asse con la Salernitana che vede coinvolti ben tre giocatori bianconeri. Vediamo quali. Il mercato guarda sempre più in casa Udinese. Per rinforzare la fascia destra, la Salernitana bussa alla porta del club bianconero. La società friulana abbonda di interpreti nel ruolo di esterni, sia a destra che a sinistra. In rosa attualmente ci sono i titolarissimi Pereira e Udoge e poi diversi sostituti. Sta per rientrare Buta, finito KO all'inizio di ritiro e nelle ultime settimane impiegato in primavera. Ci sono poi Festi e Bose, Lenzo e Bossè, Kingsley e Izzibue sui quali Sottì lavora da tempo. A gennaio pare logico che qualcuno possa andare a cercare maggiore spazio in altre realtà per evitare di rimanere in panchina qui. Potrebbe toccare a Kingsley e Izzibue, giocatore che piace alle Salernitane e per il quale il club di Iervolino ha aperto il dialogo con l'Udinese. Udinese che a sua volta aveva proposto Festi e Bosele. Da Napoli dicono che la Salernitana non ha preclusioni, ha impostato l'affare con Izzibue e per il quale è pronta ad investire 460.000 euro di ingaggio e da formalizzare il passaggio in prestito con diritto di riscatto. Se però i friulani dovessero frenarne l'arrivo, la sterzata sarebbe immediata. A patto che il cerchio si chiuda subito, il 4 gennaio i Granati inaugureranno il 2023 allo stadio Arechi contro il Milan e Davide Nicola ha bisogno di un giocatore fisico e veloce che contrasti i pendolini rossoneri, Hernandez e Leao. Il Cleo Campano cerca anche un sostituto di Boinen e tra i possibili candidati ha inserito nella lista anche Tolgaia Slan in scadenza di contratto con l'Udinese il 30 giugno 2023, ma che ha spesso esternato la volontà di rimanere in bianco o nero. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con Avvo e la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.